Con Claudio, Anna e Serena, direzione Canal, dopo l'uscita di giovedì a Gear Covery, il mezzo Corada, male detto rientro. Grazie. Sì. Senti qua come siamo coperti nell'aria, fa già caldo. E' fatti. Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Con Claudio, Anna e Serena andiamo sopra la ciclabile dell'Isonzo, direzione Canal. Non abbiamo ancora deciso nel dettaglio cosa fare, ma sfruttiamo questa fresca giornata di Bora. Claudione com'è? Sono ancora vivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ogni volta ci penso, ogni volta dico, ma no, non mi pare il caso. Montanbikes? Grazie. 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 Allora abbiamo preso la salita che da sopra Plave arriva a, non mi ricordo, e abbiamo ancora 7.4 km, 493 metri di dislivello. Sembra tutta così, 8-9-10%. Fresco. Ma dopo l'uscita di giovedì, andare su così ai 135 battiti, spettacolo. Tocca sana per le gambe. Giovedì sera, barra giovedì notte. Se non mi seguite su Strava o su Instagram. Uscita con un gruppo di squinternati, 3 ore a 32 di media, scatti frustate, a fuoco, tutto il tempo. Oggi recovery. Che dici, qua che molla? Aspettiamo Serena. Sì, magari torno anche verso giù, infatti. Dici? Potremmo arrivare dove c'è il bivio. Che qua vedo che c'è un pezzo adesso che molla, e poi un altro strappetto e poi riprende. Sì, mi ricordo che c'è questo bivio. Vediamo, io non lo so. Sì, mi ricordo che c'è questo bivio. Sì, mi ricordo che c'è questo bivio. Qua a destra sarebbe andare verso il Corada. Vediamo cosa facciamo. Giro perfetto con mille svolte per prendere alternative diverse in base a quanta strada, a quanto dislivello si vuole fare. Ok, destra, ancora cinque chilometri. Ma questo, se ho capito bene, dovrebbe essere il mezzo Corada. Eh sì. Da qua, se vogliamo andare su per dire di aver fatto il Corada, destra, se no frutti e casa. Decidete voi. No, di proseguire sinistra e rientrare per pre... non per il porto, come si chiama? Se te lo dico. Lì sotto si vede l'isonzo con l'acciclabile che gli corre vicino che ho fatto l'ultima volta quando sono sceso da canale. Ho filmato anche un video ve lo lascio linkato qua nella in alto a destra. Questa salita l'avevo fatta con Claudio appunto e anche con Sergio. Neanche farlo apposta. Perché Claudio c'è anche oggi e Sergio è sempre quello che ci tira fuori le strade nuove. Ancora lo scorso inverno e qua in cima avevo fatto volare il drone e avevo fatto il video. Anche questo ve lo lascio linkato. Siamo quasi in cima. 460 metri siamo arrivati. 15 metri di dislivello ci mancano per essere precisi. Sosta Panino in cima al Corada e si scende. No, non è Lig. non è Lig. No, no. No, no. si scende. No, no. No, non è Lig. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. No, grazie a te. Alla prossima. Ciao. Assolutamente. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Buon rientro. Ciao. Ciao. Lui scontrò il 32 per portare a casa Claudio. Alla prossima.